Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Plague Tale Requiem, io sono Glacial Sphere ed oggi giocheremo al capitolo 12, la vita che meritiamo. Abbiamo scoperto parecchie cose negli scorsi video quindi vi consiglio di andarle a vedere se non li avete ancora visti perché i capitoli 11, 10 e 9 hanno raccolto un bel po' di informazioni, hanno fornito un bel po' di informazioni, delle rivelazioni molto interessanti, quindi andiamo subito ad accettarci in questo capitolo 12. Vi ricordo nel frattempo di lasciare un bel piacere al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Continuo a ripetere che graficamente questo gioco sia fantastico, guardate che belli scorci, che bel paesaggio che regala, peccato che appunto a livello di gameplay non mi stia facendo impazzire ormai, questo non è un segreto dato che me lo avete sentito dire parecchie volte a livello proprio di game loop, gameplay loop, non è proprio il mio genere di gioco questo Ok, abbiamo fornito la torcia Ok, andiamo Corriamo rischi stupidi, capito Yugo? Vogliamo proprio andarsene dall'isola allora Eh, figurati Però no, sembra avere Intenzioni ostili Ah, eccoli che tornano Eh, noi eravamo scappati da loro, eh Disobbidendo a nostra madre Noi, non possiamo scappare da questo, credo Wow, guardate i due di voi Solo una mamma può avere così potere in un'esola Ok, sai cosa? I'll head to the harbor and prepare the boat You join me as soon as you can Take this Whatever happens Keep this flame alive, ok? Yes, be careful Ok, quanto fate che questo soldato verrà attaccato? No, 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 no La verità Abbiamo trovato ciò che venivamo E io sono la persona che lo scusare Scusate, il mio ero Scusate, muovete prima di tornare È il palazzo che va a guardare, signor? Per ora Dai, il palazzo si che reggerà su Già, capite che i topi possono in qualche strano modo distruggere un palazzo Non si sa bene come riescono a farlo, ma ci riescono Io nel frattempo guardo un giro comunque per vedere se ci sono dei collezionabili Sapete che questo è il mio modo di giocare Per lo meno con i videogiochi che stimolano un po' questo mio lato esplorativo Eccoli che arrivano Ok, si stanno proprio difendendo, trincerando come se fossero degli invasori Noi stanno cercando di evacuare Non ancora Non fino a che abbiamo tutti raggruppati Sì sì, arcieri, catapulte Guarda qua Sì sì, sembra proprio una guerra Possiamo andare qui? Sì ma non c'è nulla Sì sì, sembra un po' Sì sì, sembra un po' di rai E' un altro Sì sì, sembra un po' di rai Sì sì, sembra un po' di rai E' un po' di rai Qui c'è qualcosa, magari No Mentre di qui Non sembra esserci nulla, vero? No Nada di nada Zero proprio C'è nulla Posso colpire quello? No, non posso usare la fionda Avevo voluto far saltare in aria tutte Il childe Potrebbe essere a guardare Sì, c'è il sangue Non so Allora, cerca di non sercare Hanno più Ma scusatemi Infatti se sono stati morsi, in teoria Diponderanno il morbo Quanto possono essere stupidi per averli portati dentro al palazzo No! No! Come to your senses. We've got more wounded coming. So it means the child is coming. The child is supposed to lead us to brighter days. Not this carnage. Quiet. This is not the time to argue. Children. Has it been a camp for this food? It's not much, but we have to mind our supplies. Let's pray this nightmare ensue. This is my fault. Shh, please. This is but a test the child senses. You must not lose faith. Are the rats really announcing his coming? Through there. Why is he killing us? You too. Pray to him. Just pray. That's it. That's it. Vediamo cosa accade ora. Viveremo una sorta di... Vabbè, c'è prima il dialogo con la madre, certo, Lucas. Oh my God, you're alive. Ma poi viveremo magari una sorta di difesa da Nemura. Una sorta di tower defense. Please, come here. Con un po' di strategia, magari. Mother. How are you? Your head. It's fine. Don't worry. How did you find us? You left quite a trail behind you. But tell me. Is it the one? This island? The one from your dream. There was another carrier, like me. Another carrier? Yes. Back in the 6th century. A child called Basilius. We found him chained in an order prison designed especially for him. What? I think they panicked when he reached his last threshold. They took him away from his protector. Locked him in there to contain what would happen next. A new plague? In the 6th century, that's... The Justinian plague. We knew it was connected to the macula, but... So it started here. With this Basilius. But it was not his fault. He was just... All alone and scared. Yes. Mother. Magister Bodin said Hugo is condemned. But this is what the Order believes. Based on their mistake in the past with Basilius. If he'd had his protector. Like Hugo has us. I'm almost sure nothing would have happened. Think about it. During the last months on the road. The times when it was quiet. Everything was just fine. He was fine. That's true. Something tells me that if we settle down somewhere safe. And live there as a family. Maybe the plague would stop. With time. It would stop getting worse. Fear really clouded our minds. Didn't it? Except yours, Protector. Yes. Remember that house we have in the mountains. We'll be great there. We'll be big and tall. Sorry to interrupt. The Count wants to see you. Me? Now? But we were about to leave. He is the Count of Provence, my lady. Yes. We'll wait for you. For now we're safer here than outside anyway. Fine. Take me to him. Follow me. Ok. Ma sto cos'è? Si può prendere? Best not to keep the Count waiting. Do you know what the Count wants with me? No. I thought he would be attending to more urgent matters. Seeing you must be an urgent matter. Act with dignity in his presence. These are dark times. He's touched. Like any of us. All right. I will. The main gate is secure enough for now, but the western rampart is still weak. If the rats enter through there, we won't be able to evacuate the wounded. Now, I want to know where those rats come from. Send scouts. If we can find a way to slow them, stop them, or send them to hell, it'll be worth the risk. Sire, she's here. Good. This is a war unlike any other. But it is still a war. Dismissed. And have faith. It's not over yet. Yes, sir. Come, I need you. Very well. Count. Lady. The count is waiting for you. The count is waiting for you. Speravo in un souvenir, un collezionabile o qualcosa di questo tipo. Mi sa che bisogna solamente seguire il conte in questo caso, anche perché camminiamo lenti come dalle lumache. Ellie. I'm sorry for your land. A lord should know that no peace lasts forever. But I confess that after years of war, I had dared to hope that this one would. I understand. The scars are still so vivid. They fill the mind when you want only rest. Sorry, I... No. No. That's... Exactly it. It's only human. I think. You're right. But it doesn't stop you from being there when battle calls. Yes. Okay, quindi hanno altri segni oltre ai ratti per capire che il figlio delle bracci sta appunto arrivando. che non c'è davvero nulla. Ah, però... Emily wants the boy, Amicia. I'm sorry, but she is sure now. Sure about what? That your brother is the child of Embers. She must have him, so you must die. No, no, listen. You are all completely wrong about this. Your cult. Everything. You're probably right. Because I invented most of it. And I did it for her. What? Emily. Her bloody parents broke her mind until she tried to take her own life. Poisoned her own body. So I brought her here. Offered her this child of Embers story. And not only did she believe it. She turned it into hope for the people. You found her alive! What are you trying to do? Accept your fate! What are you trying to do? I'm going to move her. Go back to them. Go. I won't lose her. Not for you. Go to hell. Where are you going? You won't have him. Move. To the right. Come on. Quick. You can't imagine what's at stake. Go to hell, you bastard. I tried to be patient. No, no. You won't get him. I'll find you and you will die like a dog. Hey, what's going on? I need help. Please, how do I get out of here? Who are you? Where is she? Behind that driver. Shut up. Everybody out. Keep out of sight. You and me. Now. Let's finish this. I know it seems unfair. But you don't know what it takes to rule. War. It's so easy. I could destroy everything. But she showed me another way. She has a light about her. You've seen it. Perfetto. Via. Lucas. How do I touch them? It's too late. Now she knows that she exists. Pardone. 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 Ok, siamo passati. Eh, figurati. Stiamo tornando indietro, vero? Stiamo tornando indietro, vero? Stiamo tornando completamente a caso. Stiamo tornando completamente a caso. Quick, must be your way to get back upstairs. You've broken the gate. Should be your way to open it. Too noisy. You've chosen the hard way. No time. Quick, move. I hear you. Feel makes you slow. Eh, esattamente cosa dovrei fare lì, allora? Forse dall'altra parte, eh? Cioè, devo continuare tipo a... Oh no, non ditemi che così. Devo continuare a fare avanti e indietro da una parte all'altra della stanza. Aspetta, qua però c'è un'entrata. Nessuna via d'uscita. Cosa c'è allora qui? Un modo per inchiappettare il conte? Sì. Vabbè, facciamolo. Via. Va qui dentro, vai qui sotto. Mi ha visto? Sì. Posso andare qui dentro, allora? Vai. Ok. Movesco. Di nuovo. La porta, chiuderò dentro. Oh sì. Subito. Non stop, puoi farlo. Ok, uscirà, immagino lui. Ok, uscirà, immagino lui. Putterà giù la porta, no? Non me lo farà fare. Eh, infatti. Sapevo che non me lo faceva fare. Via, 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 via. Devo rifarlo? Devo riportarlo lì? E allora cosa fa? Passa? O va dall'altra parte? Dai, entra. Ok, mo' non sa dove sono. Posso chiuderlo ancora dentro? Eh no, ovviamente no. Ma forse sì. Mi era apparso qualcosa? Ah no no, niente da fare. Eh, devo attirarlo via, però. Ok, vai. Via, 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 via. Via. Corri. Questa? Vai. Ok. Tu mi ricordi di vecchi tempi, di me stesso? Ora, vedo te. Onde il tuo sangue flotte. Por favor, parla di questa malattia. Oh my God. Non ti fai ora. E io prendo il fuori. Non lo so, Luca. No. Ma, Luca, non lo so, non lo so. Ma, anche se non lo so. Ma... So use it! Use it against them! Don't be afraid. Yes, you failed, but... ...this child was never truly yours. I feel so full of him. Hugo won't heal the wounds of your past. He will fill no void in you. You'll die. Everybody will. No! He will be loved. He will shine like a brighter sun. Repel this darkness, and I... I'll just be a mother. Watching the first steps of a god. Shut up! You have no claim to this family! Amicia! How are you still alive? Where's Hugo? Inside! Go! Run! At last! Sorry, my love, but this one's a hell of a fighter. Now this. This is an invitation I can't refuse. You caught me by surprise. I'm impressed. You're quite something, you know. You face me. Thinking with all your sorrow that you can... ...defeat me. I can. You won't have my brother! Such dedication. You have a burning fire inside you. But a flame without discipline doesn't make a soldier. It consumes them from within. I'm not a soldier! Oh, I know. You fight because you don't have the choice. I chose this life. This is why you'll fail. You took a lot, coward! Steady your stunts! Stand your crow! Grip that sword properly. You're a disgrace to it. You never fight to defend yourself. Fight to kill. To conquer. Whatever. You're still a coward. Who do you think you are to define me? I'm Amicia Darune. Shut up. And I kneel to no one! Shut up! Amicia! Amicia! You see? You kneel just fine. No! No! Please stop! Please! Stop! From one mother to another! Enough games. Victor! This is not what we're here for! I'm sorry. War took its toll on my husband. He gets... carried away sometimes. I admire you. Your children are strong. Your bonds are strong. When I was her age... I could only wish for this kind of love. But it's not just about us. For love is meant to be shared. To be turned into light. Shone over the whole world. Such is the fate of the child of Embers. Love can kill Emily. By the time you realize that... It will be too late. It will be quick. I'm so proud of you. Amicia. Amicia? Do you? Do you? Do you know? Are you looking for the mother of Embers? Are you looking for the mother of Embers? Are you looking for the mother of Embers? Anche con questo possiamo solo camminare, non possiamo correre. Onde è tutti? Dato che sanno che può controllare i ratti. Ah, ora siamo qui, ricordate? Eravamo esattamente qui noi prima, quando Mr. era appena sfuggito dal conte. Oh, mia cuore! Questo è un sogno? No, non è vero. È vero. Oh, ci sono persone! Cosa stai facendo? Emily? Oh, mio bambino! Oh, mio bambino! Tu dovresti tornare a dormire! Ugo... Hai matato! Non, non! Io ti prendi tornare a dormire! Victor, prendi lui tornare! Tu? Cosa? No, non ci possiamo arrivare qui! Ci prendere da dentro! È tu! È tu! Io lo sopravano! Emily, vrei prendere te! Non! Cosa stai facendo? Scusate! 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 Miro a bersaglio con i premi RT per mandare ratte! Scusate! 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 Cosa stai facendo? Scusate! Ugo! Cosa? Cosa è questo? Stop! Non ci farà, mio figlio! Non ci farà! Non ci farà! Scusate! Non ci farà! Non, Ugo! Questo è un errore! Scusate! Voi evita la funzione! Voi che che fanno! Voi! Voi venci! Voi venci! Voi venci! Voi venci! Voi venci! Voi venci! Non! Voi succede! Voi venci! Voi venci! Voi venci! Non! 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 Non ci farà! Vabbè, spara di tutti i ratti! E un po' si gode Dai, buttati anche tu E un po' si gode E un po' si gode Amicia? Amicia? Amicia, dove sei? E un po' si gode 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 Un capitolo finalmente Della lunghezza giusta Sono commosso Fantastico Finalmente un capitolo bello concentrato Che non si perde in lungaggini Manda avanti la trama Presenta sequenze Diverse da tutto il resto del gioco E non dura due ore E non dura due ore E un po' si gode Hugo, rispredi mi Amicia, dobbiamo歪 Onde? Al harpo Ci siamo passati Il posto Ero Quo Resti Tu puoi resti Sosso Ero LUCAS Niño Chiudosh Ero Vi Ero Io faccio il cammino, non pensi, solo segui me, io sarò il vostro passaggio per voi, io sarò il vostro passaggio per voi, io sarò il vostro passaggio, ma io ti prendo fuori da qui. Quindi ora ci affideremo a Lucas Ma lo faremo nel prossimo episodio Perché questo finisce qui Ti ricordo di mettere un bel mi piace Se il video ti è piaciuto Di commentare E di iscriverti al canale Per non perderti i prossimi caricamenti Da Glacial Spear È tutto Al prossimo video